Sono passati vent'anni da quando con legge è stato istituito il Giorno della Memoria, dedicato a ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. E tutte le volte ci accostiamo al tema della memoria con commozione e conturbamento, e sempre pervasi d'inquietitudine, dubbi e interrogativi irrisolti. Perché Auschwitz, che simboleggia e riassume tutto l'orrore e la lucida follia del totalitarismo razzista, racchiude in sé i termini di un tragico paradosso. Si tratta infatti della costruzione più disumana mai concepita dall'uomo, uomini contro l'umanità. Una spaventosa fabbrica di morte. Il non luogo, l'inaudito, il mai visto, l'inimmaginabile. Sono questi i termini ricorrenti con cui i sopravvissuti hanno descritto il loro tremendo passaggio in quei luoghi di violenza e di abiezione. L'abbiamo ascoltato, poc'anzi ancora, dalle parole di Samemodiano. Un unicum nella storia dell'umanità, che pure è costellata, purtroppo, di stragi, genoscidi, guerre e crudeltà. Una mostruosa costruzione, realizzata nel cuore della civile ed evoluta Europa, in un secolo che pure si era aperto con la speranza del progresso, nella pace e nella giustizia sociale, che lo affiducia nella scienza, nella tecnica e nelle istituzioni della democrazia. I totalitarismi della prima metà del Novecento e le ideologie che li hanno ispirati hanno arrestato la ruota dello sviluppo della civiltà, precipitando larga parte del mondo nella notte della ragione, nel buio fitto della barbarie, in una dimensione di terrore e di sangue. Ricordare, e fa ricordare a tutti il sacrificio di milioni di vittime innocenti, ebrei in maggior parte, ma anche rom, sinti, omosessuali, oppositori politici, disabili, esprime dunque un dovere di umanità e di civiltà, che facciamo nostro, ogni volta, con dolorosa partecipazione. Ma faremmo un'offesa grave a quegli uomini, a quelle donne, a quei bambini, mandati a morire nelle camere a gas, se considerassimo quella in fausta stagione come un accidente della storia, da mettere tra parentesi, se insomma rinchiudessimo soltanto nella memoria quei tragici accadimenti, chiudendo gli occhi sulle origini che hanno avuto e sulle loro dinamiche. Il fascismo, il nazismo, il razzismo non furono funghi verenosi nati per caso nel giardino ben curato della civiltà europea. Furono invece il prodotto di pulsioni, di correnti pseudoculturali e persino di mode e atteggiamenti che affondavano le radici nei decenni e persino nei secoli precedenti. Certo, nei salotti di tante parti d'Europa, dove a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento si conversava con il responsabile civetteria, di gerarchia razziale, di superiorità ariana, di antisemitismo accademico, forse nessuno avrebbe pensato che si sarebbe poi arrivati un giorno a quella che fu crudelmente chiamata soluzione finale, ai campi di sterminio, ai forni crematori. Ma le parole, specialmente se sono di odio, non restano a lungo senza conseguenze. Quelle idee e quei pensieri grotteschi, nutriti di secoli di pregiudizi contro gli ebrei, rappresentarono il brodo di cultura nel quale nacque e si riprodusse il germe del totalitarismo razzista. Rimasto per molto tempo allo Stato latente, esplose e si diffuse con violenza inimmaginabile quando infettò organismi politici e sociali indeboliti e sibrati dalla crisi economica esplosa dopo la Grande Guerra. La disperazione e la paura del futuro di fronte all'inefficacia e alle divisioni della politica spinsono molte persone a consegnare il proprio destino nelle mani di chi proponeva scorciatoia autoritaria, ad affidarsi ciecamente al carisma magico dell'uomo forte. Credere, obbedire e combattere intimava il fascismo. obbedienza incondizionata ad Adolf Hitler giuravano invece i soldati funzionari del regime nazista. La fiducia del potere diventava un atto di fede cieco e assoluto. L'arbitrio soppiantava la legge. L'uso abile e spregiudicato dei mezzi di comunicazione più moderni del tempo e l'instaurazione di un regime di terrore che stroncava ogni forma di dissenso completarono quell'opera nefanda. Violenza, paura, sopraffazione, persecuzioni, privilegi, razzismo, culto del capo erano le autentiche fondamenta del nuovo ordine politico e sociale propugnato dal nazifascismo. Scrisse nel 1931 Lauro De Bosis l'atteggiamento che consiste nell'ammirare il fascismo pur deplorando gli eccessi non ha senso. Il fascismo non può esistere che è grazie ai suoi eccessi. I suoi cosiddetti e cosiddetti eccessi sono la sua logica. La logica di quegli eccessi contro la cultura e contro la dignità umana, contro la dimensione personale di ogni cittadino, connaturata a tutti i totalterismi, fece deviare bruscamente il corso d'Italia e Germania. Si trattava di paesi di antica tradizione cristiana e umanista, culle al diritto dell'arte, del pensiero, della civiltà. Le dittature li precipitarono in un universo tetro, senza libertà e senza umanità. una dimensione fatta di odio e di paura che inevitabilmente portò alla soppressione fisica di chi veniva definito diverso e scatenò per brama di conquista e di potenza il più micidiale e distruttivo conflitto che la storia dell'uomo rammenti. La circostanza che i dittatori trovino nelle loro popolazioni per qualche tempo larga approvazione e ampio consenso non attenua per nulla la responsabilità morale e storica dei loro dissatti. Un crimine e un crimine contro l'umanità resta tale, anche se condiviso da molti, aggiungendo all'infamia la colpa di essere trascinato in essa numerosi altri. Questa constatazione persino ovvia ma talvolta posta in discussione ci obbliga piuttosto ancora una volta a fare conti senza infincimenti e con coraggio con la storia nazionale e a chiamare gli eventi con il loro vero nome. Nei saloni del Quirinale esposto ad alcuni mesi insieme ad altre pregevoli realizzazioni artistiche contemporanee un'opera del maestro Emilio Esgrò dal titolo Colui che sono. Esgrò vi ha cancellato a una a una le parole contenute negli articoli delle famigerate regi razziali italiane del 1938. Quelle cancellature non rappresentano una rimozione, tutt'altro. Le pagine di quel provvedimento infame e infamante rimangono infatti ben visibili sia pure sotto fitti tratti di penna. La Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza ha cancellato le ignomine della dittatura ma non intende dimenticarle, non vanno dimenticate. Per questa ragione la memoria è un fondamento della Repubblica che si basa sui principi di eguaglianza, di libertà, di dignità umana con il riconoscimento pieno e inalienabile dei diritti universali dell'uomo, di ciascuna persona contro la barbarie dell'arbitro, della violenza, della sopraffazione. La memoria che oggi celebriamo qui e in tante altre parti del mondo non è dunque gettare lo sguardo su una fotografia che sbiadisce con il trascorrere del tempo ma un sentimento civile, energico e impegnativo una passione autentica per tutto quello che concerne la pace, la fratellanza, l'amicizia tra i popoli, il diritto, il dialogo, l'eguaglianza, la libertà, la democrazia. Nei giorni scorsi Edith Brook ha detto che sull'Europa intera sta tornando una nuvola nera. confido che non sia così anche per la fiducia nella grande storica costruzione di pace rappresentata dall'Unione Europea nata dando centralità alla persona umana sulla base dell'amicizia tra i popoli del continente e mettendo in comune il loro futuro. Ma quell'appello, quell'avvertimento non va dimenticato. Sta a noi impedire che quel che di così turpe avvenuto si ripeta. Sta a noi vigilare e guidare gli avvenimenti e trasmettere alle future generazioni i valori della civiltà umana. grazie. Grazie. Grazie.